Bene bentornati oggi in questo nuovo video dove andremo a fare un approfondimento barra chiarimento barra vita, morte e miracoli sui ganci giusti e non giusti per il nostro pappagallo Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina così da non perdervi nessun video Seguitemi anche su Instagram e niente, iniziamo subito Avevo già fatto in passato un video del genere dove andavo a analizzare tutti i vari materiali a partire dal legno, poi alle corde, ai ganci, ai colori alimentari, quelli giusti Ecco, quel video naturalmente è ancora valido e ve lo lascio qua sopra Oggi andiamo a fare un approfondimento più specifico sui ganci perché se non me c'è ancora delle incertezze Quindi in questo video intanto andremo a vedere quali sono le pericolosità di un gancio E poi vi farò vedere tutta una serie di esempi, quindi un escalation dal gancio peggiore al gancio giusto Quindi l'unico gancio che effettivamente dovete utilizzare sarà l'ultimo che vi farò vedere Iniziamo subito, quali sono le pericolosità? Allora, innanzitutto è il metodo di chiusura La chiusura a moschettone classico che siamo abituati La chiusura a moschettone classico, che conosciamo tutti benissimo Non va assolutamente bene Perché il pappagallo giocando potrebbe involontariamente anche, oppure per divertimento Perché vi ricordo che sono bravissimi a cacciarsi nei guai Potrebbero premere qua la parte, insomma, dell'apertura E poi vedete fa lo scatto Ecco, in questo scatto potrebbe rimanere proprio allamato come un pesce E questo, a parte scherzi, è davvero pericoloso Si vedono spesso foto o scene che non vi metterò naturalmente Perché se no mi buttano giù completamente il video YouTube mi oscurerebbe qualsiasi cosa Però davvero è molto pericoloso e questi incidenti accadono veramente spesso Quindi mi raccomando, la chiusura deve essere in un determinato modo Che adesso vi faccio vedere La chiusura deve essere, non so se lo vedete, di queste avvite Che si possa avvitare, quindi chiudere E poi svitare per aprire Ecco, in questo modo, vedete, non c'è niente di pericoloso Perché al massimo, pagando se lo svita Però non è che si chiude a scatto Quindi è totalmente sicuro Anche queste aperture qui, sempre a pressione, non vanno bene E poi naturalmente evitiamo anche tutti questi anellini, portachiavi Che anche questi, insomma, se volete pescare il vostro pappagallo come fosse una trota Ecco, questo è il metodo giusto Ecco, quindi mi raccomando Seconda pericolosità è il materiale Molto sottovalutato perché è l'ultima cosa a cui pensiamo Ma in realtà, anche in questo caso, è molto pericoloso Per realizzare questi ganci in molti casi utilizzano metalli pesanti tipo lo zinco Che con il tempo potrebbe sciuparsi O comunque il pappagallo giocandoci potrebbe usurarlo E di conseguenza ingerire piccole quantità di questi metalli E nel lungo periodo portare ad un'intossicazione da metalli pesanti È una cosa veramente frequente E molto grave In tanti casi Ecco Quindi mi raccomando Molto importante utilizzare l'acciaio inossidabile C'è da dire che in molti casi Come ad esempio anche nelle gabbie Vengono messi, diciamo, delle coperture Che proteggano, insomma, dall'usura di questi metalli Però con il tempo Anche le gabbie, quindi quelle che non sono in acciaio inossidabile Con il tempo, infatti, si consiglia comunque di sostituirle ai primi segni di usura Perché comunque non sono materiali che reggono all'infinito Di conseguenza, anche se c'è queste coperture, però il rischio dopo un determinato periodo c'è Quindi mi raccomando, state attenti E ogni tanto bisogna rinnovare un po' tutto quello che riguarda l'accessorio dei nostri pappagalli Però nei ganci, visto che sono sempre all'interno della gabbia E visto che sono molto spesso associate anche ai giochi È facile il nostro pappagallo ci interagisca particolarmente Quindi mi raccomando, i ganci, acciaio inossidabile Quindi ora andiamo a vedere tutta una serie di ganci Dal più sbagliato fino all'unico giusto E vi spiegherò il perché non vanno bene Partiamo, secondo me, dal peggiore Che è effettivamente questo Cosa che non va? Naturalmente la chiusura Perché anche in questo caso è a pressione Poi, essendo così fini Cioè, sono anche veramente appuntiti Quindi il pappagallo davvero rischia effettivamente Di infilarsi questo ferro nel becco E su me è veramente il peggiore di tutti Perché si trova molto spesso E questo proprio è dannoso sia per grandi pappagalli Che piccoli Perché tutti possono effettivamente aprirlo Quindi proprio pericolosissimo Come l'anellino portachiavi Anche questo Tremendo E poi Non sono fatti neanche in acciaio inossidabile Ma anche se lo fossero Non vanno bene Poi il prossimo è Ad esempio questo Che è un moschettone classico Vedete? Moschettone classico Che si apre Quindi a moschettone Però cosa ci hanno messo magari? La chiusura Anche a vite Ok? Che in questo caso viene bloccato Però che succede? Questa vite Ogni tanto può succedere Che scenda Perché magari ce la dimentichiamo Perché magari La vite è un po' usurata E quindi scende E di conseguenza a questo punto diventa Un normalissimo moschettone Pericoloso E poi È sbagliato anche il materiale Perché non è in acciaio inossidabile Quindi comunque vada Anche questo è sbagliato Il livello successivo Che può sembrare giusto È un gancio quindi Con la chiusura Ottima Perfetta Però Il problema è che in questo caso È il materiale Cioè Si va bene La chiusura è sicura Però il nostro pagallo Potrebbe comunque essere Attirato Dall'uscentezza E quindi giocarci E con il tempo Usurarlo E ingerire piccole Seppur piccole quantità Di questi metalli Però Nel lungo periodo Non si sa mai È pericoloso Quindi Tanto vale Prendere in acciaio No? E quindi Arriviamo all'ultimo Ma L'unico Effettivamente Giusto Che è il gancio In acciaio Inossidabile Con la chiusura Detto questo Quindi spero che questo video Vi possa essere utile Soprattutto Da ora in avanti Quando andrete A scegliere Magari un nuovo gioco Per il vostro pagallo Avrete modo Di usare Anche questo parametro Per valutare Se stiamo facendo Un acquisto giusto O no Io naturalmente Vi consiglio La Maramaya Toys For Paroth Non smetterò mai Di consigliarvela Perché naturalmente Utilizza Giochi Lengue naturale Con colorante alimentare Quindi non dannose Che anche su quelli C'è dei disastri In giro non vi potete immaginare Quindi Utilizza colorante alimentare Ganci In acciaio Inossidabile Come quello Che avete visto ora Come l'ultimo L'avete visto ora Corde In canna Ma anche su quelli Ci potremo fare un video In futuro E quindi Io ve la lascio Sotto in descrizione Perché comunque Mi sento davvero Di consigliarvela Detto questo Io vi saluto E vi lascio Sotto il mio Instagram Insomma tutto quello Che vi serve E noi ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Ciao a tutti